Cari amici, più volte ho citato in questi incontri gli archivi parrocchiali e quelli di Ocesani, ricordando che sono dei veri e propri beni culturali perché sono il frutto delle comunità che li hanno prodotti nei secoli e ora ne costituiscono un patrimonio direi unico e fondamentale, mettendone in luce le vicende, certamente le vicende religiose ma anche quelle economiche, civili, culturali e sociali. Tra i documenti che si conservano presso le diocesi un cenno particolare meritano le relazioni delle visite pastorali che sono una delle fonti storiche privilegiate dei libri che con l'Associazione Butto Cultura stiamo realizzando ormai da 22 anni. I documenti più antichi possono essere di difficile lettura ma fortunatamente gli atti di molte vicende pastorali sono stati trascritti integralmente e in alcuni casi anche pubblicati. Ecco due esempi di riproduzione dei testi, delle relazioni di alcune visite pastorali. Dobbiamo ringraziare il Concilio di Trento indetto nel 1545 e concluso nel 1563 se disponiamo di queste preziose testimonianze. Proprio nell'ultimo anno del Concilio la ventiquattresima sessione stabilì l'obbligo per i Vescovi di compiere ogni anno la visita delle parrocchie della propria diocesi completandola in due anni anche con l'aiuto di convisitatori. Lo scopo della visita come indicò il Concilio era quello di portare la retta dottrina fugando le eresie di correggere i costumi corrotti e di entusiasmare il popolo con esortazioni e ammunizioni. I visitatori erano esortati a comportarsi diligentemente mostrando verso tutti paterna carità e zelo cristiano e non dovevano essere di peso ad alcuno, non dovevano ricevere regali ma solo il vito che doveva essere frugale e moderato e se qualcuno avesse preso dei regali sarebbe stato punito dovendo restituire il doppio. In realtà già nel periodo preconciliare si erano tenute alcune visite pastorali, ad esempio per la diocesi di Brugnato già nel 1518 vi era stata la visita del Vescovo Filippo Sauli e subito dopo la fine del Concilio il Papa Gregorio XIII incaricò alcuni visitatori apostolici come il Vescovo di Novara Francesco Bossi di raggiungere tutte le parrocchie della diocesi Liguri per sollecitare l'applicazione dei decreti del Consiglio di Trento e anche il Vescovo Angelo Peruzzi che si dedicò nel 1584 alla diocesi di Luni. Torniamo per un attimo a Filippo Sauli che fu Vescovo di Brugnato dal 1512 al 1528. Egli è ricordato anche perché nel 1519 riuscì a convincere il Vescovo di Genova Giovanni Sforza a permutare la pieve di Castiglione Chiavarese con molte chiese di Sesti Levante, Borgo che nei mesi invernali divenne poi la sede proprio dei Vescovi di Brugnato. Dipendendo l'argomento dell'odierno incontro le visite dei Vescovi presso le loro parrocchie non rispettarono i tempi dettati dal Concilio. Infatti passavano anche molti anni tra una visita e l'altra e a giustificazione consideriamo l'estensione delle diocesi e le difficoltà che si incontravano per raggiungere le parrocchie rurali della nostra montagna. Per preparare la visita si raccoglievano preventivamente le informazioni sulla parrocchia con un questionario rivolto al parroco. Con il questionario si chiedevano ai parroci numerose informazioni e le risposte dovevano essere precise, rispondenti alla verità. La scrittura doveva venire con carattere chiaro con inchiostro nero di buona qualità perché i documenti dovevano essere conservati in perpetuo. Le risposte dovevano essere firmate e autenticate col sigillo parrocchiale. Si impartivano ai parroci anche istruzioni per l'organizzazione della visita come la richiesta di non preparare l'interno della chiesa che doveva apparire nella sua realtà. La visita poi non doveva coincidere con la festa del patrono né con la celebrazione della prima comunione. Non erano permessi gli spari di mortaretti perché la sacra visita non doveva diventare giornata di baldoria. Tutti i sacerdoti residenti nella parrocchia dovevano far visita al vescovo mentre non erano desiderati i sacerdoti delle altre parrocchie. Durante il pranzo non dovevano esservi persone strane, i chirichetti dovevano poi essere istruiti e durante le cerimonie erano ammessi solo i canti gregoriani. Con la visita il vescovo incontrava direttamente i fedeli nella loro realtà quotidiana. La visita era preannunciata con un editto affisso alla porta della chiesa e costituiva un avvenimento eccezionale per i parrocchiani che potevano ricevere anche a distanza di anni dalla precedente occasione il sacramento della cresima. Il vescovo o un suo convisitatore controllava la chiesa parrocchiale, il fonte battesimale, gli altari, gli arredi, le suppellettili, il campanile, il luogo di sepoltura, gli oratori. Raccoglieva informazioni sui confini della parrocchia, sulle sue proprietà, sul reddito, sulle confraternite, sul rispetto dei legati e notizie sul numero dei parrocchiani dividendoli tra quelli in grado di comunicarsi ai piccoli che non avevano ancora ricevuto la prima comunione. Questa informazione è particolarmente importante per seguire i movimenti demografici. Il vescovo poi visionava i libri parrocchiali e il ricordo della visita era garantito da una relazione che veniva compilata dallo stesso vescovo o dal suo segretario. Ora voglio dare qualche esempio sui moltissimi presenti che possa far capire la ricchezza e varietà di informazioni che si possono ricavare dalle relazioni delle visite. Pensiamo all'estrema povertà delle parrocchie, ad esempio quella di Buto. Nel maggio del 1726 il vescovo Nicolò Leopoldo Romellini, giunto nel paese, fu costretto a cambiarsi in una stalla per la mancanza della canonica, poi trovando la chiesa con pochi arredi il tabernacolo che si muoveva. La sacrestia malproveduta scrisse che avrebbe dovuto sospendere il parroco ma non poteva farlo perché per la povertà della parrocchia non avrebbe trovato alcun economo. Il successivo vescovo Domenico Tatis nel 1757 scrisse che a causa della povertà della chiesa di Buto e del popolo situata alle falde del Monte Gottero non se l'era sentita di dare alcun ordine e, considerato l'alloggio non adatto e la previsione di pioggia, aveva deciso di non pernottare nel paese e di proseguire subito il viaggio. Comunque, come testualmente aveva scritto il vescovo Lomelini, tutta la diocesi di Brugnato era malamente distribuita e non provvista sufficientemente. Nel 1579 il vescovo Mascardi, durante la visita pastorale a Costola, accennò alla tradizione delle decime che alcuni parrocchiani rifiutavano di versare al parroco, pratica che stava scomparendo in tutta la diocesi. Il rettore fu qualificato poco istruito. Questo vescovo nella sua visita riprese e punì molti parroci della diocesi che non erano istruiti in teologia e altri che indossavano abiti non decenti, ottenevano presso di loro concubine o partecipavano a balli o andavano a caccia. Altra informazione preziosa, nella parrocchia di Costola nel 1579 vivevano 40 famiglie per 200 anime, quindi una media di 5 persone per famiglia. A proposito di punizioni, nel 1640 il vescovo Francesco Durazzo condannò al pagamento di dieci scudi il parroco di Tevigio per negligenza. All'arrivo del vescovo la porta della chiesa era chiusa, il parroco non aveva istituito il registro dello stato delle anime, non teneva l'inventario dei beni mobili ed immobili. Per restare a Tevigio un esempio anche per la citazione di opere d'arte nelle relazioni delle visite. Il vescovo Lomellini nel 1726 descrisse la tela che raffigurava San Giuseppe conservata nella cappella di Pizzolo di Tevigio dipinta da Bernardo Strozzi detto il Capuccino. Anche la statua di legno dalla Madonna di Lavasina di scuola genovese del 700, all'epoca conservata nella chiesa di Porciorasco, fu notata dall'arcivescovo Giovanni Battista Lercari che la definì bene scolpita durante la visita del 1768. Cennì anche a periodi politici particolari. Nel 1933 il vescovo Giovanni Costantini visitò la parrocchia di Tevigio e rilevò alcune problematiche tra i mali che creavano gravi danni spirituali e morali della popolazione e vi era il corso premilitare che si teneva nelle giornate di domenica. Sul lavoro il secondo vescovo di Chiavari Giovanni Galveroni scrisse dell'immigrazione verso le Americhe e del comportamento scorretto di alcuni contadini che sconsigliavano nuovi insediamenti per essere liberi da abusare nei pascoli e nel legname. Sullo spopolamento il vescovo Siro Silvestri in visita a Caranza nel 1980 confidò che le migliorate condizioni sociali e la possibilità che il lavoro agricolo potesse dare redditi non inferiore agli altri lavori inducessero i giovani a non lasciare i loro monti. Ma non solo punizioni anche premi come l'elevazione a prevostura nel 1901 della parrocchia di Romaggi da parte del primo vescovo di Chiavari Fortunato Vinelli durante una sua visita pastorale. Egli elogiò i parrocchiani e altri elogi furono rivolti dal vescovo Amedeo Casabona che nel 1919 definì il popolo di Caranza come uno dei migliori della diocesi di Chiavari. Concludo ricordando che alla fine dello scorso millennio il vescovo Giulio Sanguinetti originario di Santa Giulia di Lavagna augurò per il futuro dei paesi del nostro introterra il sorgere di attività agricole, artigianali, turistiche e di altre compatibili con la vocazione del territorio in grado di trattenere le famiglie rimaste e di farne tornare altre per garantire un futuro di sopravvivenza a dei paesi splendidi come natura ma anche rinomati come valori. Un caro saluto a tutti. Grazie a tutti.